Cristiano Ronaldo e la scioccante offerta ecco l'impressionante cifra che ha rifiutato. Un'offerta impossibile da rifiutare per qualsiasi persona. Tranne che per Cristiano Ronaldo. L'asso portoghese ha dichiarato durante la ormai celebre intervista concessa su Talk TV al giornalista Piers Morgan di aver detto di no ad un ingaggio da Sheikko prima del suo ritorno al Manchester United. Una cifra da capogiro, impossibile da rifiutare è vero, mi arrivo quell'offerta ma decisi di non accettarla. L'offerta incredibile che Cristiano Ronaldo ha rifiutato si parla di un biennale da 350 milioni di euro per andare a giocare in Arabia Saudita. Una offerta economicamente scioccante ma che avrebbe probabilmente messo la parola fine alla carriera di CR7. Per questo motivo alla fine il portoghese l'ha rifiutata. Una scelta sicuramente coraggiosa.